Buonasera a tutti gli amici di Gamesurf, benvenuti a questa nuova diretta streaming Oggi siamo stati online con il buon Fabio che ci ha preceduto con il foot Ma visto che non ci stanchiamo mai dalla sua voce e dalla sua presenza Ce l'abbiamo stasera nuovamente in diretta con noi Ma, ma, oltre a Fabio abbiamo anche tutta la redazione di Gamesurf, o quasi Perché ci abbiamo Valerio, Madonna Valè, abbiamo Roberto, benissimo Sembra una cosa, sembra una comunità questa, molto superdipendente Abbiamo Luca e abbiamo anche il doppio Luca, che è una special guest questa sera Avevo Luca Pinchiroli Madonna Cominciamo malissimo Esatto, male male male, ma tanto queste sono dirette trash ovviamente Vi facciamo vedere questa sera Overwatch nuovamente Perché ve l'abbiamo fatto vedere in passato, ragazzi Non so se vi ricordate Tra l'altro, ecco Robi la domanda te la tieni Ci sta bellissimo già Bizio pronto in prima linea solamente a smerdare la gente Io volevo chiedere a Luca di Bizio Eh beh, ma guarda, Bizio non l'abbiamo invitato perché doveva sentirsi solo e diverso Posso dirvi una cosa, io ho appena battuto Bizio a FIFA Boh, attenzione che tremo, tremo L'ultima volta che ho visto, Bizio ti stava facendo il culaccio Poi forse No, e infatti ne abbiamo giocata una e una, la rivince e te l'ho vinta Vabbè, ho t'ha fatto di vincere Eh no, 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 no Comunque Comunque La diretta dei resti umani, come dice Bizio Siamo online, passiamo alla schermata così Visto che Bizio è già pronto ci darà un feedback audio e video Come vedete siamo nel menu di gioco, abbiamo già creato il gruppo Io direi direttamente di passare al quick play Così facciamo vedere a tutti quanto sono bravi gli altri Ma, tra l'altro ho trovato subito la partita Menomale, oh, matchmaking Quando sei tutto il gruppo completo va una bomba Allora Che vi scegliete voi? Window, widow, maker Ok, quindi cecchina Io ho scelto uno che spara perché ho capito che io non lo posso fare Valerio ho scelto uno che spara ragazzi, attenzione Io ho preso un tent Ciao, con una bomba gigante sulla schiena Io invece prendo il nano ragazzi Chi è che è il treno ragazzi, scusate No, è Valerio che fa una diretta direttamente on the road, capito? Si è portato il desktop appresso No, no, è nella galleria del vento della Ferrari C'è anche Montezemola accanto a lui No, ma comunque mentre mi coglionate non capisco che rumore sia È la ventola È la ventola Ma veramente? Eh, a così pare Manca Wolfie Eh, io sono sul TomJorn, aspettavo voi Grandissimo Eh, siamo usciti? Siamo usciti Eh, perché hanno cambiato la... Sono andati via altre persone Questa sera ragazzi non è colpa nostra perché siamo fondamentalmente il gruppo completo Allora, ritorniamo su TomJorn Guarda, il soldato 76 ha un'abilità fortissima, Valè Quella del cura? No, può aumentare il ratio di fuoco Quindi con il mitra arriva un momento che sfondi tutto Ma farà comunque sperato Dica qualcosa del gioco, Simo Cioè, fai un po' il cicerone della situazione Eh, beh, il cicerone della situazione, capirai Allora, mi avete messo già in mezzo E fondamentalmente il gioco Si divide i vari personaggi che compongono la squadra in vari ruoli Che possono essere ricoperti Quindi, come avete visto nella scelta della squadra Abbiamo avuto Roberto che si è preso un bel tank Tra l'altro, Reinhardt è un ottimo personaggio perché difende Ecco, lo starete vedendo Sto facendolo Io ragazzi starò in fondo al gruppo Così faccio vedere un po' tutti voi cosa fate Ciao Intanto vedo che è entrato pure Diego C'è Sinsdos Ma... Hai visto? Ma rimaniamo qua tutti insieme? No, dobbiamo andare verso la zona che dobbiamo difendere Perché questa zona che vedete con Questa alone fosforescente È appunto la zona che dovranno conquistare i nostri avversari Che arriveranno dalla linea rossa Ok, e possono arrivare anche dall'altra parte? Fondamentalmente sì, nel senso che ovviamente bisogna cercare di coprire il più possibile tutte le zone Anche perché Overwatch si sviluppa non solo in orizzontale ma anche in verticale Infatti il personaggio di Fabio, che è la cecchina È un ottimo personaggio Perché può con il tasto shift vi sembra Maiuscolo Arriva il tank, occhio! Fa il rampino Io ragazzi sto montando la torretta Io nel frattempo cecchino da qua un po' e do un po' di fastidio Ah, non medico, è loro Ho ucciso il tank Eh, c'è il ninja dietro a noi, ragazzi Ah, ma anch'io ho ucciso uno Anch'io uno, ne ho già ucciso Che ridere Ma stanno attaccando dall'altra parte? Io li rompo Sto qua a cecchinare Che mi piace tanto Sul posto Uno da sopra Uno da sopra Ci penso io Ci penso io Aspetta Dai ragazzi, che la mia torretta può fare qualcosa lì Io copro Ti conviene metterla su, Simo Adesso andrò a smontarla Ce n'è ancora uno su Anche perché io per salire Sono messo malissimo È arrivato da dietro Ho ucciso il loro tank Vai torrettona Qua a destra Qua a destra Vado a lasciare Ah, bello Ma, ma hanno preso Ce n'erano due dietro Dietro la macchinina Ti hanno preso in due? Eh, sì La sola cella Questo scrutto mi ha fatto fuori Dagli che ho preso Ho preso l'alter ego di Luca Ci hanno ciulato la Ah Due, due, no, due, no, due Aiuto Allora, ragazzi Nel frattempo che mi avete visto morire C'è il tanko l'uo qua, eh Abbiamo caricato l'abilità Quella, diciamo L'abilità più potente Che ogni personaggio ha personalizzata Adesso dovreste vedere tutti in giro Eh, quella L'abilità potente che stai usando tu è fighissima Perché rivela tutti quanti i nemici sulla mappa Allora, intanto ci confermano che audio e video è tutto a posto Meno male Ragazzi Io vi raggiungo subito Un po' di gente dalla sinistra Luca, ti ho visto Rotolare Allora, ragazzi Ma abbiamo un Allora, io vado un attimo in rage nanica Coprimi, Robby Dove sei? Sì, vai Vi copro anche da sopra io Aia, aia, aia Grande Robby L'abbiamo rotto Uno da sopra qua Ne ho due Ci stanno attaccando Ci stanno attaccando Eh, ce n'è un botto qua Al punto, raga Ho che a sbilanciarvi Perché Io non ci credo Che di fronte a tutto questo Bizio Ancora non ha detto Una delle sue coglialate Si sarà distratto No Impossibile Su FIFA si è sprecato Stasera Cacchio, roba Non stento a crederlo Sto facendo una cura qui Se volete venire Dove, dove, dove Arrivo Dove c'è la Grande, grande, grande Sì, ne ho bisogno Anche se Ma tu qual'hai preso Di supporter, Val Che c'è l'angelo Che è fortissimo Però ho anche la cura Poi ragazzi Se vi serve Prendo l'angelo Che c'ha due abilità Una di cura E una che praticamente Due da destra Due da destra Aumenta il ratio di fuoco Arrivano il coltank Attenti che c'è il bazzuchiere Che sta volando in alto Ho visto che ci sta andando dietro Sì, esatto, esatto Perché sparano dall'alto Quello è bastardo Di brutto Allora, fatemi vedere Chi abbiamo Ok, ci serve una Un support L'healer è andato Aspettate che vengo io Con l'healer, va No, minchia Sono tutti qua, ragazzi Sono tutti qua Eh sì, l'ho visto Mi hanno seccato alla grande No Di 5 uccisioni Luca, ti sei mollato per la causa Eh no Più che altro Cazzo Non l'avevo visto Vai Fabio Io grazie Io grazie Madonna Mi hanno one shotato Vai Fabio Ti faccio la velocità Non fare il mirino Ma vai senza mirino Che c'ha il mitra Spari più veloce Eh lo so però Mi stanno sentendo Te sto curando io Tranquillo Con le cure mie Non vai mai giù Ecco Cazzo Madonna Ma che fece No ma aspetta il bello Con le cure mie Non vai mai giù Eh ho capito Perché è venuto dopo Roberto Come al solito C'è di mezzo Roby Quando muoio Cazzo Stavo facendo una partita perfetta Era 6 kill Di zero morti Invalidata Eh stanno andando eh Eh la mardone La palletta rotolante Con gli aculei è divertentissimo Allora Aspettate ragazzi Come sei andato giù Umiliato proprio Un altro che se ne va a dormire Però Mi che ho fermato E' Fabio Porco 2 Ragazzi Col cecchino è divertentissimo E' troppo bello Cioè Qua 3 Qua 3 Eh ti sto cercando di dare una mano Ma Dov'è Luca? Quindi ho capito bene Se li miri E li Gappi nel Nel mirino della cecchina Fai one shot Porco 2 Sì Oh me lo sto inventando io Ah ok Poi certo Se li becchi Devono pure avere poca vita Andato Allora Aspettate che io Guardo pure la chat Allora Riroccia E' entrato Alcatraz Vi siete salvati Visto che la Roma gioca domani sera C'è la Lazio Mamma mia Eh che cazzo Valerio che disapprova la Lazio No ma dai Ma che cazzo C'è la Madonna C'è un po' di cura Luca se volete arretrare C'è un po' di cura qua Cazzo ce n'è uno qui Cazzo ce n'è uno qui Ha scassato la minchia questo Comunque ha deciso che ufficialmente il 76 è più forte di tutto E' quello più sparatutto di tutti Infatti mi sto mettendo come un maiale Quando non muoio Cazzo ce n'è uno qua davanti Che cazzo Wow che botta Lo so gli ha lanciato intosto il mondo Non è ancora morto Il tanker Loro Cazzo Wow mannug Minchia ho bloccato 9000 danni comunque Eh si guarda il tuo personaggio è tanta roba Occhio perché c'è lì il coso Oh il tipo lì però Il tank loro è una roba Prezzemole finocchio Il pelo irto è setoso Madonna Cazzo Oh porca vacca L'avevo quasi preso Però l'ho tolvo ucciso E' fatto di qualcosa Mazzate ragazzi Comunque il ninja è forte Non so se avete visto con gli shuriken Quello che crea Si Con gli shuriken fa un disastro No Da dietro No ma ne ha ammazzati io Perché ho visto il replay Quando ha ucciso me Che era la fine delle kill Cazzo li ha uccisi Ne ha uccisi 3 di fila Io ho tolvo Stiamo perdendo o sbaglio? Eh si si Stanno avvicinando pericolosamente E cosa che dovevamo fare? Per poterlo Cercare di fermarli Esatto No ma dobbiamo difendere Nel senso che dobbiamo andare Cioè cercare Di non far portare Fino in fondo Il tank Loro Vedi che si muove Dai che l'ho ammazzato No cazzo Sei rimasto vivo Vai con la freccia E' un 4 lì Ho fatto il dragone Boh Ho ucciso tutti Cazzo Anche io mi chassimo ad Amsterdam Ho fatto un dragone una volta Eh si Non me lo dovevi di però Mi hai rovinato proprio la serata Ma mi hai regalato un'immagine terribile proprio Che spero di aver frainteso Oh no Ma è che Sento benissimo Mamma mia Ma il ninja La smette Di avercela con me Cazzo Il ninja è proprio Un grande Cazzo In maniera Ma ragazzi Non abbiamo Non abbiamo nessun healer No Ci sono io che ogni tanto Faccio la cura Ma non è esattamente La stessa cosa Ho notato Un po' perché sono io E un po' perché Non sono un vero healer No ce l'ho anche io La cura Cazzo Robby te sei spostato all'ultimo Eh dimmelo Eh no C'hai ragione Non t'ho avvisato Allora io intanto Vediamo un po' Allora Riroccia fa il tifo per noi Sumiti Ercecchina è troppo forte Mi ricordo i due giorni Che l'ho avuto in beta No Intanto abbiamo perso Stavamo scaldando Poi JJ Game Va bene Giusto Comunque il character design È veramente picchissimo Sì Strapidoso Ma veramente è tanta roba Sì e comunque raga Hanno trovato il modo per dosare Sì ma Mi sbaglio Questo è il nuovo personaggio Sì Quella che stai vedendo in replay Sì Insieme all'altra Mei mi sembra che si chiama Quella lì che è vestita con Il vestito diciamo del Sembra una che viene dal nord 35 colpi diretti con razzi 29% di razzi sparati Ma io voterei per Spriggan però Votate A coglione Votate Spriggan Io voto il mio capo Ovviamente Ma va Lecchino Veramente Guarda Grande Val Mi ricorderò di te Lo so Lo so Livello 2 Io 4 Io comunque ho fatto 8-4 Com'è Come C'è 8 eliminazioni I 4 morti Io non ho manco letto le mie Sei positivo assoluto Dove vedo il mio? Non lo vedo Totale Allora io invece adesso Magari allora ragazzi Io li cambio spesso Così faccio vedere al pubblico I personaggi diversi Vedete che ho un pacchetto nuovo io Allora Vediamo un po' adesso cosa posso prendere Allora i personaggi nuovi Erano Mei Questa che state vedendo adesso E D.Va Io provo Mi sa che sono uscito dal party Comunque No Sì Sei uscito dal party Sì c'è Hidwolf Cacciolo via Eh non lo posso cacciare E ora esci Esci e rientriamo Allora Livegame Comunque è carino il fatto che ti dai consigli di squadra Tipo adesso che non avevamo nessun tank Ce lo indicava sulla destra Nessun tank Nessun eroe di supporto Beh quella Quella sì è stata una buona cosa Perché Comunque permette anche di equilibrare un pochettino le squadre Cioè pure chi non conosce il gioco Magari si trova Si trova Esatto Quando vai a giocare con Cioè quando vai in matchmaking puro senza squadra Mi inviti Simo Anche Sì sì ragazzi Dovevate uscire e non caricava Grande comunque Fabio con il simbolo degli Zerg Hai visto? Ho cambiato il collo giocatore Io un pacchettino nuovo Aspetta che lo apro Io ho un loot box Anch'io Anch'io Che cosa ne faccio? Lo devi aprire Lo devi aprire Ciao Pizio Ciao Pizio Sì comunque dobbiamo smettere con questa prassi ragazzi Perché sto diventando pitulante Ho capito? Anche oggi durante i FIFA Ciao mi saluti XXX Grande pure Joe X è arrivato Jox Allora io riprendo un attimo Hanzo Che mi piace troppo Hanzo Gloriozzo Tava fortissimo Eh questa è un incitazione fratello Ma perché? Allora qui siamo una Ah questa è figa di mappa ragazzi Comunque è stato bello come siamo passati a citare amici miei Lino Buffy E poi Robette serie Scusa voi che siete pro player Il robottino che abilità è quella che F1 Il robottino qual è? Ah mi curo Ok niente Faccio io che voi non siete Va bene No mentre io non ho capito il rilevatore di movimento Sei serissimo Valerio Che dai è un robottone pazzesco Ah è forte quella È bellissimo E il problema è che è rosa Però vabbè Sì esatto È un po' gay pride Vabbè dai Vabbè dai siamo in tema Il mio lato femminile a me piace Mi sento delicato Beh guarda Valerio dopo l'ultima Qual era stata la diretta Culi giapponesi là Che guarda Ho tremato Quando mi è arrivato il reminder Sulla mail Ho tremato Pensavo era Era spam Comunque Simo il robottino che dicevo io Era Anamura Anamura Fammelo vedere Pane buonissimo Cotidiano Io riprendo cosa Troppi cecchini Adesso abbiamo troppi cecchini E allora aspetta Lo cambio io Allora Per non prendere un cecchino Provo il ninja Io va Che è l'altro nuovo Luca cosa scegli tu Ok Io ho preso il panzone Grande Il panzone è pazzesco Quello col tatuaggio Allora ragazzi Questa è una cosa Questa è un'altra cosa È un'altra cosa È ispirata a starcraft però Vero vi facciamo tutto noi due Ma robia qualcuno E' un'altra cosa Allora Anche qua Sono cattivissimo Valerio stasera Ce ne sono un sacco comunque di giochi Vero? Hai visto che figata? Mi stavo guardando anche io prima Senti Robby facciamo massacrare un attimo gli altri Siamo qua a vedere i giochini Uh robetta seria Ce l'hai un gettone? Wow io sono già sparito L'hai ucciso? Attenti alla feritoia in alto ragazzi Perché lì ci si piazzano sempre i cecchini Fa che non è morto Alla feritoia ci penso io Grande Cioè se muoio non muoio Fantastico Questo tutto c'è molto interessante Abbiamo un healer Sì ma mi curo io e basta Ah ok No però se ti metti nel cerchio Ah no è vero no non è il cerchio Dobbiamo fargli fuori il medico perché sta curando il tank Cazzo Aia No Con ninja non sono capace a giocarci Metto l'arcere Alla vediamo un po' Alla ragazzi Bizzio dice che voi altri non vi sentite Cioè? Allora aspetta Mamma mia che kill Potana che giocatore pazzesco Alla Bizzio prova a vedere adesso se li senti Ho fatto io una modifica Eh dai che ho bisogno di veloci Ok comunque dovreste vedere gli altri adesso Comunque fanno dei rumori C'è il Ok fatta fuori anche la torretta Solo che ragazzi non siamo ancora andati Porca vacca Eh c'è il tank che sta bloccando proprio l'ingresso lì E che è molto più ad imbuto rispetto all'altra L'altra mappa Difissimo superare Eh qui c'è il portone ma pure quello dopo è ancora peggiore ragazzi Io sto provando a cecchinare il Ok E che loro hanno il medico sulla sinistra Sto provando a cecchinarlo ma si continua a spostare sto infame Cazzo Ok che appena uscite appena uscite c'è una torretta eh Ah io ho presa una No mi rimetto dall'alto qua sono inutile Ho provato a cambiare Cazzarola Aiuto dietro dietro Io nel frattempo ho finito il primo livello di metà slug Grande Cazzarola ma disintegrato Raga ma se mettiamo ce l'abbiamo un tank Ah portano Che non è Roberto Io non sono più tank Ti sei dimesso? Sì non ce la facevo più mi sentivo troppa responsabilità Era in conflitto con la cura Faccio io Che il ciccione non dà soddisfazione Eh più che altro per tirargli giù il loro tank Perché se no è finita Cioè Se non passiamo perdiamo proprio troppo tempo Dai eh t'ho preso in testa stronza Ma te faccio vedere io eh Beccate questo Dietro Dai eh Ah che ho mann'ammazzato peccato Però tre l'ho ucciso Dai Cazzo c'è la Ma c'è la torretta di merda sulla sinistra Eh la tolgo Cerco di toglierla io Cazzarola si sono bardati dentro di brutto questi eh Eh ma il problema è che non riusciamo a entrare Mo faccio un'altra run con l'arciera e poi rimetto il Eh devi prenderli da dietro Eh beh Regola di vita Io ho tirato giù la torretta però Io sto tenendo impegnato il tank Se volete provare a prenderlo da dietro intanto Eh io Sto cercando di cecchinare il tipo che mette giù le torrette ma No serve l'healer raga Se non ci abbiamo l'healer Il tank è giù Davi Sono in metà di mille raga E io vi sto distruggendo la torretta Uh l'ho uccisa però Eh ragazzi però il problema è che non essendo riusciti a passare Abbiamo pochissimo tempo Eh si Vai vai siamo dentro Siamo dentro Vai Luca spara come se non ci fosse un domani Lo cazzo si è andato No Sì ma dovete conquistare quello davanti raga Eh io mi sto mettendo su a cecchinare No cazzo Valla t'ho provato a tenere ma Vai cecchino a terra Stavo provando a lanciarmi Ho ammazzato a cecchino Io vi sto dando supporto da dietro Vai spara pinchi roli Arrivo Eh il problema è che io non sparo granché Arrivano Sì Do una mano da qua Comunque con ledshot van giù one shot Io sto provando a scappare ma Su a c'è qualcuno Dai ragazzi cercate di venire che io sto conquistando qui Sì arrivo 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 Anch'io Occhio alto da destra Occhio al tank Cura c'è la cura nell'angolo Non vi muovete troppo Dai sparate 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 ho velocizzato Fuck you No merda Eh no siamo usciti Eh beh peccato No Eh beh l'ultimo attacco non era male dai Beh ragazzi se spingiamo un po' di più andiamo Io non devo stare lì dentro raga Io non devo stare lì dentro Lo star fuori e sparare da fuori Col cecchino Se no è inutile Tanto adesso siamo nella stessa mappa Eh ma dobbiamo fare il ruolo inverso Ti hanno ucciso Rovi Anche Simo Eh tutti ci ha ammazzato questo Anche Luca Anche tutti Ha creato il panico Probabilmente ero già morto No cioè questa volta io posso votare solo Luca No Che si sta votando da solo Che si sta votando da solo Non so Sta votando da solo Beh dai lo voto anch'io va Ah ecco meno male Così si fa Ecco Guarda che venduti Pure quelli lì che stanno Di poi gli sconosciuti Lo stanno votando Ma poi come Eh Allora Faccio vedere la mia La mia Sette eliminazioni Cinque morti Fai col tab no? Eh Boh Almeno a me ha fatto vedere Appena uscito da quella schermata Mi ha presentato Eh lo devi fare subito Se lo fai subito Te lo fa vedere Dopo quando fai nella schermata Di level up Comunque esistono altre modalità Nel gioco O tendenzialmente Sempre uguale Sì Io continuo a fare leader Che Io sempre cieco Quale Il fai Io riesco solo a sparare Mi dispiace Proverò Ripeto Secondo me L'hanno Rallentato parecchio Rispetto all'altro Però continua a essere Bellissimo Ci faccio poco da fare Serve un tank Cazzo Questi qua Di blizzard San fare anche Gli spara tutto In prima persona Eh sì 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 Eh ma ci sono poche cose Che non sanno fare Robetta Perché gli strategici Li stanno fare Gli MMO li sanno fare I morpi li sanno fare I sparatori Li sanno fare Anche longevi E' quello pure il discorso Ma invece del prezzo Cosa ne pensate Cioè del fatto che esca A prezzo pieno Per forza Perché non puoi Non avere Cioè potendo cambiare Personaggio Sempre devi avere Cioè non Non ha senso Infatti il roster È già comprato dall'inizio Ma magari Non Cioè su console Costa 70 euro Questo gioco E che cos'è che non andrebbe Eh infatti Non lo so No secondo me no Cioè voglio dire No non lo so Abbiamo comprato giochi A 70 euro Con molti meno contenuti Sì Non ti ho capito Roby scusami Molto più di me Abbiamo speso 70 euro Con giochi Con meno contenuti Di questo Ah beh sì 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 Cioè Oddio Il fatto che non abbia Single player Per qualcuno Può essere un problema Però Dai venite dietro a me Così li facciamo Iniziamo la partita Li ammazziamo subito Mentre escono A 5 secondi arrivano Io ho preso Questa qua che spara il ghiaccio Ma non so che cazzo fa Spara il ghiaccio Scusa eh La logica di Luca È inoppugnabile È proprio Nonno Ho preso il coso Affancina Almeno il ninja Loro l'ho ammazzato Minchia che sfanculato Grande Roby Mamma mia No Come sei morto Occhio dietro Non è valido Stavo baciando mia moglie Mi hanno ucciso Va che mo si inventa le scuse Ero rimasto solo Bizio smettila di scrivere cose equivocabili No però bellissima l'azione Roby l'ha congelata Io l'ho finita No raga dai Già stanno a conquistare Roby tu puoi anche costruire Dei muri di ghiaccio Che un po' bloccano I colpi In avversari Mortan guerrieri Stanno girando il posto Sbaglio Sì Sì Eh io ne ho fatto uno Ma non basta Quindi l'obiettivo B Dove è tornare indietro Fantastico No mi ha ucciso Ho un tank che ce l'ha con me Ah 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 Che bello Minchia tre martellate Nel frattempo stiamo volando su Marte The Martian Sto fonando i capelli Minchia Aspettate mi sono diventato Valerio Eh Ma che voglia adesso Sto partendo eh Ci sono entrati in base addirittura Siamo veramente scassi Eh This is the captain speaking Welcome aboard GetSurfed.it Sto male Porca vacca reganno Hanno fatto un rush Terribile No Ci siamo già morti Porca vacca Alla fine ho capito come si usava il personaggio Eh ma guarda Il problema è che fare Il gruppo fatto E che becchi Altri gruppi fatti Che sanno giocare Eh vabbè Luca Adesso non essere così Beh però dai va detto Effettivamente va detto Questa è la migliore azione Sono io Questa è la migliore azione Sono io Votatemi ragazzi Ma grazie a chi Guarda dov'ero Guarda dov'ero Votatemi Votatemi Anzi non votatemi Non mi cagano Ci siamo Io non voterò quelli dell'altra squadra Ovviamente Ma nemmeno io Anch'io Robby Adesso ne ha quattro Voi del pubblico Eh il pubblico c'è Che ha preso Dalsim Dice Diego Era Pinkyroll Che ha preso il Dalsim Questo match non l'ho capito molto Ma no Questo match è stato il tipico rush Regà C'è poco da fare Questo rientra nella categoria Gore Esatto Sì O Gang Bang Mamma mia Fabio la butta sul poetico Ogni volta Sì Molto Guarda che avrei potuto Giocarla molto più sporca Però Mi sono più trato Voglio dire che hanno preso una salsiccia L'hanno lanciato in un corridoio Questa è l'immagine Oh applicazione Ha arrivato un errore inatteso Crasciato Sono uscito dal gioco Adesso vincendo Adesso vincendo Dai Fatemi fare lui Bastardi Ma no Sei dentro Ti vediamo Eh ma si vede Può provare a riavviarla Magari gliela riprende Vediamo se mi riprende Caricamento Sì mi sta riprendendo Grandi Blizzard Programma bene Sui giochi Guarda che non te lo danno il codice È inutile che lo dici pubblicamente Ce l'ho già Questo è quello della vita Ce l'ho già Quello che sto giocando adesso Ma questa è la beta Questa è la beta Idiota E dopo non vuol dire Che avrò anche il gioco No No Ma guarda che pirlo Che sfiga Val Ci perderemo le tue doti Da first person shooter Comunque sono già dentro Sono con voi Credo che siate voi Ti sentiamo dentro Val Mamma mia Ah ma adesso bisogna conquistare le cose Non è più come prima Tra l'altro rispetto alla beta precedente Se sbaglio Ci sono mappe in più Due Due mappe in più Occhio c'è Ciochino E c'è anche il tank Comunque si sarete lo scudo Robi Eh fanculo Trifuerza da merda Io provo anche a curarti Ma se gli va in bocca viene male Oh Ah raga ma accanto non c'avevo nessuno Io sono dentro dove dovevamo conquistare ragazzi Qualcuno viene o Eh sì ma c'è il tank lì eh raga Arrivo io col tank Eh raga abbiamo pochi Eh porca troia Sono un po' da solo Mi sento un po' solo Ci sono io Però io sono abbastanza Ma io sono dietro al tank Robi premi maiuscolo Che fai la carica Eh ciao Stato Conquista in corso Conquista in corso Ma sono da solissimo No io sono dietro di te Bravi Bravissimi Non so chi è stato ma bravissimi Cavola Non abbiamo catturato un obiettivo E grande risultato per l'equip Gamesurf Eh ma dobbiamo tenerla eh raga Sì era dietro di noi La stanno pigliando Ah Zio Porcello Arrivo arrivo Il che ha fatto una doppietta colori Pazzesco Cazzo Do Mezzogiorno di fuoco Bambambam Bambambam Aspettatemi se no chi mi cura Bambambam Bambambam Duca si segue con la siringa Scappiamo tutti Ci è dato porto vorrei curarmi ma fatti di tutto per evitare che cazzo cazzo porca la vacca facendo schifo eh buono va cambiato basta basta cecchino al subito io mi sa che l'unica classe che il suo ce l'unico personaggio che so usare soldato 76 vabbè guarda che mano a mano poi uno si impara grazie simbolo no ma te lo dico perchè pure io sono di pazzo sto pensando l'immagine ma c'è la mia compagnia mazza tracer è velocissima da usare pico poi se riesci a alternarti col teletrasporto suo vai una bomba infatti talmente l'ho fatto bene fanculo però non è un amico soldato secondo me con questo qualche killer riscopare se non è finito il match è già finito guarda che cavolo gira di robin muo porco due li cambi eh ma due raga no però dobbiamo erano tre per coordinarci un attimo ragazzo prendere le scopole mai viste se bisogna coordinarci raga coordiniamolo round 2 vai questo è un'altra modalità comunque vale io sto insieme si è vero questo insieme è un unico obiettivo che devi alternativamente attaccare e difendere l'intanto aspetta io devo vedere la chat pure romano doc 100% cozzi del cavolo veni qua te 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 dai che stiamo partendo via via veloci ascolta sei il tank dovresti essere il primo adesso io il primo eh ma se scappano tutti io sono lento sei lento eh ma se ci credo ma cos'è ma dove sono finito col teletrasporto sono finito per terra qua 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 sbagliato ma c'è il friend il fire bravo robie arrivano dietro di voi qua 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 ecco appunto eh dicevo c'è il friend il fire o lo posso sparare anche a voi tranquillamente nooo puoi sparare vai ok ero lì che facevo tutto le pulite comunque raga occhio al loro cecchino perchè veramente forte ahhh stanno arrivando il posto arrivo aspettate si mi chiedeva stanchio loro cecchino cazzo eh forte vero arca l'ho preso però mi ha ammazzato porca loca porca porca per dindirindina dindirindello eccederlo con la mano sono con voi ragazzi ho riacchiappato qualcuno per il campione c'è il tanker ahia è il cecchino a destra a destra a destra in basso nooo mi ha ucciso porca troia comunque sto facendo fatica a trovare quello giusto il cecchino qual è? widow maker adesso che sei il nome esatto lo cerchi a casa? lo cerco sulle sulle pagine gialle controlla che non sia scaduto si Roby e andiamo insieme Roby dietro di me occhio a destra a due porco due c'è ne uno anche a sinistra però c'è Luca sulla sinistra eh non è troppo aia troppo troppo dato arriva un tank Roby 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 tu non riesco a trovare il personaggio da usare eh mi ha preso mi ha preso la grande proprio eh il tank loro però è ingestibile per un po' da solo oh porca vacca ho saltato troppo in avanti mi sono ammazzato da solo madonna ma quel cecchino lì è pazzesco cazzo eh forse lo è che si nasconde eh di là sotto il suo sinistra Roby sinistra ma com'è possibile? raga qua ce ne sono un po' io non posso porca troia mi ha fatto fuori il cecchino ammazza ma ha fatto un sta facendo un disastro di chi? dai erano troppi eh sono troppi qua eh si eh abbiamo perso siamo insieme dai Simo abbiamo perso eh ma no ma noi un healer ce l'abbiamo? io ah si eh ma raga dobbiamo coordinarci sennò non fa niente allora cerchiamo di capire chi fa cosa e famolo sono rischiate di vincere dai comunque è carino il gioco mi piace il gioco è bellissimo il gioco è meraviglioso che puoi pensare il gioco l'abbiamo provato proprio io e Valerio a Colonia sì comunque raga c'è da dire che dà le paste a Battleborn comunque porca miseria dai sì eh spriggan eh spriggan diciamo come non ci fosse un domani Roby la gioca sui danni bloccati eh certo come l'healer la gioca sui danni curati eh vuol dire che ho fatto bene il tank in teoria bravo bravo esatto cosa hai fatto bene il tank oh guarda che con Luca lui mi curava io andavo avanti il problema è che non c'era nessuno che sparava esatto ci mancava la parte di danno adesso vi seguo io ecco ho preso una medaglia d'oro non ho capito per cosa ah per il tempo perché vai via Val no perché è stato tanto verso l'obiettivo nell'obiettivo danni inflitti terzo ai bronzo per danni inflitti va bene ragazzi buona continuazione grazie saluto a tutti i presenti in chat ciao ciao il dorado e il meccico ma era mio fratello ah ok ciao lucchino quindi allora bilanciamoci un attimo come si è ripreso leader e io ho ripreso il tank io volevo prendere il cecchino però se Simo vuole fare il cecchino con l'arcere sono l'arcere ma tu puoi prenderlo Widowmaker eh ma se no non abbia l'attacco così il cowboy come attacco vado col cowboy eh il cowboy se c'hai una buona mira fa è letale anche perché la diciamo l'abilità eroica c'hai tipo il praticamente entri in una sorta di tempo rallentato bello e macini veramente cadaveri bello comunque qui ragazzi non c'è nessuno perché sta trovando il gioco quindi non dovrebbero esserci altri giocatori sì l'unica cosa è che c'è un rinculo che fa panico io faccio questo e vado anch'io ragazzi allora intanto Rambo Rambo avevo capito Rambo anche è tornato è un Rambo brasiliano portoghesi è monkey man scusami Bezio per la chat perdonate non ho letto io che cosa che cosa no è perché Bezio come al solito si lamenta nessuno legge la chat buh uh uh e se diventa pian piano per osmosi fra una settimana lo troviamo che chiede di salutarlo e se facciamo le build battle sì e beh sicuramente sicuro allora intanto è entrato Macao buonasera benvenuto oh qualcuno Fabio tu sai cosa sta facendo a Lazio per caso te lo dico subito ma tri ha segnato perché ma dai tanta calcio però non so quanto faccio spero che l'altro cioè spero che il mio diretto avversario non l'abbia messo in campo beh sarebbe uno scandalo averlo messo in campo io ce l'ho in panta ultimo panchinaro no penultimo perché ultimo è totti è vero 1-0 minchia il mitra matri al 45esimo la sblocca lui quella sì che è una vita altro che Fabio Fabio dimmi segui la la riga rossa sì sempre la riga ho detto sì sì nel dubbio c'è rassonanza Luca la mettiamo così no perché avremmo fatto un imbuto per i bastardi vabbè eh sono dall'altra parte siamo tutti separati però eh sì ragazzi no no sono qui noi tanto dobbiamo difendere l'obiettivo quindi io sto qua tank la davanti e dietro tutti quanti sì esatto precisamente in questa formazione occhio che arrivano venite dietro da destra da destra eccolo lì preso sì sì erobi lì mi divideranno tu stanno sopra stanno sopra è qui sove esatto sopra alla vostra sì ho visto il tank lì sopra ok che dall'alto ragazzo mi svantaggio se stanno sopra mi sto distruggendo tutti ma e uccisi tutti ho fatto cinque uccisioni allora sei matto io ho ammazzato il tank io ho ammazzato il tank ma sbaglio le uccisioni le danno doppie quando tipo cioè tutte e due sparano convogliano il fuoco sì perché puoi fare il supporto fa no però a me conta proprio come uccisione tipo adesso sia Luca io e Luca abbiamo ucciso il tank assieme io ho eliminato il Kayus io ne ho eliminato uno mi serve un po' di cura se c'è due e due con medico dove? a sinistra dietro il camion e c'è anche il tank c'è anche il tank sono qua c'è anche il tank sono qua sono qua anch'io cura 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 anche io grande io io ragazzi se calibro la potenza della freccia li becco pure dietro il palazzo c'ho il mio diretto concorrente attenti che ce n'è uno di sopra no aia 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 allora Fabio potrebbe arrivare qualcuno alle tue spalle da un corridoio mi sono rotto ah andato ok ancora un attimo grazie no però non mi trovo bene con il c'è danni troppo separati uno dagli altri wow help help ho il tank qui grazie ah aiuto eh si ti copro io dai che l'uno l'ho preso ancora qui ancora qui ancora qui il tank l'ho ripreso cos'è che mi sta sparando sto tipo vai resuscita grande cazzo dai che ho ripreso il tank ragazzi io sono c'ho il drago se volete a destra a destra c'è il tank visto ragazzi quando ci sta tanta gente ditemelo che sparo il drago no ragazzi comunque io con il non mi trovo per niente bene con il con il grandissimo tirate giù il tank ragazzi io ho sparato il drago venite qua dietro attenti che ce n'è uno lì eh arrivo nove uccisioni ragazzi oh ne ho presi due no di qua di qua di qua c'è McCree dall'altra parte si si sto tornando indietro però il problema è che ne ho tre che mi sparano alle spalle ragazzi aiuto dove stai Fabio eh dove non dovevo essere probabilmente non arriva ti sto venendo incontro arrivo ok no ok adesso però ho l'ealing da solo che hai preso soldato oh ragazzi c'è il tank che ha avanzato un casino eh ero ma aveva preso me ah ok ragazzi stanno passando dallo stesso corridoio di prima eh ah cristo santo eh fino a lì non ci arrivo perché muoio prima no no lo so lo so lo so no no ma non per te proprio io sono andato a buttarmi da solo ragazzi io ho sparato una freccia segnaletica dove passano di solito eh così se li vedemo vai Luca ammazzali tutti ma hai messo il triangolo? il triangolo no stank ahia porca vacca questo mi ha proprio fatto l'esecuzione ho preso la grande ma ha preso questo ha fatto proprio tutto il giro è caduto è caduto è morto da giro vai 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 allora polo man dipende da che ero ti trovi meglio help help se riuscite grazie eh ragazzi l'alcere va dosato ecco tipo quella cavolata che ho fatto adesso io aia si 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 che è giunga questo cane è andato via tank è qua eh aia dai ragazzi aspettate che arrivo eh ma come ha fatto dai sentite io prendo la mia cecchina preferita va altro che star qua ce la stiamo facendo ho preso mccree ragazzi boni ma chi colin si sottestate cazzo abbiamo fallito no eh si l'hanno preso regà io da solo non gli ho fatto a piallo aia m'ho preso cazzo ok io mi sono già camperato qua aspettate ma vaffancina aspettate che mo gli sparo il dragon faccia aspetta che fateli incalanà tutti su un corridoio cavolo cavolo ragazzi fino a mostama difende benissimo e ciao porca troia però dobbiamo raggrupparci sennò raga sono tutti qua dai aspetta ho sparato il dragon ora dovrei averne presi qualcuni eh qualcuni eh scusa hai ragione anche tu uuu no aiuto raga ne ho una marea qui sotto gente ovunque veramente porca no l'hanno conquistato l'ho ucciso ma alla fine vada via porca l'acqua oh comunque 7 7 ho fatto io mannaggia come fai a vederlo subito scusa eh premi sta sotto guarda adesso se premi taglio 15 5 eh hai visto mazzo poi ragazzi vedete quando da giovani giocavate a quake qualcosa è servito ciao ragazzi ciao ciao ragazzi ciao ciao ma smetti la barba ciao ragazzi ciao ragazzi bella io ho votato luca eh due volte grande metica non hai fatto a votarlo due volte si può io invece ho votato l'avversario perché non volevo che vinceva luca e invece il doppio voto mannaggia quindi ha l'SRP in seno proprio che c'è proprio da fare proprio in seno oh intanto ho preso un altro loot box allora ragazzi in chat diteci un po' il feedback come vi sembra il gioco cosa ne pensate qualcosa che i ragazzi di blizzard anzi no i ragazzi non lo posso più dire qualcosa che gli sviluppatori della blizzard possono migliorare no soprattutto se volete che vi saluti ditelo io lo faccio volentieri grande ma luca tu sei vecchio non vuole nessuno il tuo saluto il tuo saluto vecchio che farai salve no ciao ma io lo trovo molto più normale di come era prima chi luca è peggiorato ah no il gioco il gioco il gioco dicevo waiting for players ma io guarda in realtà si è vero è molto più lento rispetto a prima cioè prima era una roba psichedelica a me ricordava il wipeout non c'entra niente però come se allora continuiamo sulla questi hanno preso vedere perfetto come te trovi Fab no adesso l'ha scelto luca mccree a me piace l'ho provato prima quando ho installato il gioco da soddisfazione intanto Polloman dice il gioco è perfetto ma anche l'eroe italiano poi hanno vinto tutto l'eroe italiano chi è? Hermon Nezza esatto bello cazzo anzi no in realtà l'eroe italiano è bombolo è bravo ma carbonara piuttosto Riroccia fa una domanda interessante dicendo senza un team è giocabile o è come Siege allora ma Siege non è ingiocabile senza un team ragazzi dai beh forse anche a livello di comunicazione magari fa cioè io io per esempio in Siege ti ricordi pure quando abbiamo fatto il live se non sei proprio preparato col gioco no e comunque magari giochi con altre persone con cui non comunichi diventa complicato poi gestire la partita no ok quello si però Simo cioè secondo me se comunque tu hai una strategia minima a meno che tu non debba per forza fare un'irruzione particolare o voglio fare cose particolari nel matchmaking normale fai delle discrete partite tranquillamente anche perché poi puoi farti segni puoi parlare dentro cioè in qualche maniera ti coordini secondo me questo è molto più complicato non avere il team rispetto a Siege paradossalmente ma anche perché lo vedo comunque molto molto frenetico mentre lì come dici bene tu in Siege puoi e devi creare una strategia di ingaggio perché sennò vai incontro alla morte sicura e qui qui andando avanti è un bel casotto eh però ho messo fuori il mio c'era di cecchino ah io sto cercando di occuparmene solo che mi piace è un disastro per il cecchino c'è quel cavolo di reaper che ogni tanto lo vedo passare e ora però l'ho cioccato qualcuno mi può dare della vita c'è qualcuno un healer ce l'abbiamo? eh non lo sai che non l'ho vista la squadra qui prima mentre stavamo a fare il matchmaking mi sai che ho paura che non ce l'abbiamo sai ragazzi metto la freccia segnaletica così almeno vediamo comunque raga al posto di andare di lì facciamo il giro se no non passiamo più occhio raga che c'è la cecchina lì che se mo si mette dietro al tank ha la fine appunto esattamente ok io ne ho eliminato uno dall'alto però ho bisogno di un healer raga senza healer io devo io ne ho fatti due c'è un altro healer in arrivo ed è piuttosto pulita adesso la situa cazzo di merda dove sta bene ti vedo critical no ti vedo morto ah ah aiuto aiuto simo è su un po' fianco a te solo che ci girano è infatti facciamo sono sceso giù chi è che attacca di là grande marta riper che bastardo eh no ah poi ragazzi stiamo andando stiamo andando è incredibile sto tanko porca vacca non gli levi in cavolo mo guardate questa eh beccate questa maledetto manco così l'ho ammazzato cioè gli ho sparato in faccia ahia soldato 76 eh ma raga boh ammazzato comunque ancora vivo eh io devo capire ma pinkie la la freccia doppia dell'arciaria l'hai provata? no ma io devo capire come cazzo funziona a me perché la sparo pensando che debba prendere più oh l'ho preso vaffancina mica puoi essere immortale oh cazzo così io prendo gli assist bella questa aiuto help sopra se riuscite qualcuno arrivo grazie a posto guarda quel tank tanto te devo beccao la fai da ormai si si perché non more mai healing eh si però raga non serve un tubo se sto qua da solo no chi è ho preso vaffancina ho preso riper che poi a me mi piace un sacco l'arciere perché devi calibrare pure la la gittata delle frecce ah e mo però che fai mo te pidi sta freccia mo te la pidi tutta in faccia ed è vivo ma che cazzo oh madri sto ammazzato guarda basta me ne vado ho finito di giocare ecco basta ammazzatemi veramente dopo che ho preso quello stronzone d'alsim allora alcatraz il peggio gioco senza team è ghost ricon phantoms se becchi oh jox chiede di essere salutato da luca ciao jox ciao amico amico jox grazie luca così sembri un tossico sembra che hai finito la dose sembra che l'ha appena utilizzato orca vacca o la finita nel senso che proprio no la sua fatta tutta ragazze emozionato infatti si il tang va giù si cazzo bravo io invece ho preso barot non ho capito chi era oh io mi fermo qua e mezzo comunque alcune personaggi sono simili a eric rispetto a bla cioè a battleburner beh vabbè ma diciamo che i ruoli fabio so pressoché gli stessi aspetta è forse più il cecchino grande l'ho preso porca vacca reaper di merda ce l'avevo davanti minchia non ne vinciamo una raga allora Apollo Man qual è il tuo eroe preferito per ogni ruolo però devi dirgli al contrario e dopo poi Gov Makako avete bisogno di un Lucio ed effettivamente è così ragazzi però Lucio bisogna pure saperlo usare non è facile Lucio è figo perché mette l'ast al team aumenta la velocità Lucio fascia laterale dell'intra di tempo fa beh ragazzi qui bisogna votare Wolfie grande damage done non sa manco come mi sono anche autovotato sono come i politici italiani il 29% dei danni di squadra ah Simo hai picchiato come un fabbro beh beh appena volta non servirà a nulla ma appena volta è andata sei eliminazioni sei morti sono andata in pareggio ahia Luca la copertina ce l'hai si che ti sento andante si è stata una giornata dura tua moglie te l'ha messa la copertina sulle spalle la forza è l'acqua calda la tisana no però la tisana è un buon colpicarbonato è una buona idea quella della tisana dai colpicarbonato vicino ah io cambio eroe però ragazzi si facciamo vedere anche qualcos'altro anche perché purtroppo malgrado per i nostri spettatori purtroppo ci sto io come primo come primo eroe che vedono allora prendiamo bastion va anzi no aspettate chi ci sta e intanto la razza la razza ha raddoppiato con mauri eeeh mica ecco la razza i bomber eh comunque si con assist di cataldi in entrambe le occasioni questo cataldi proprio un buon innesto mmm ropetta seria sto sto robot non è male in effetti mi sa che mi sa che metto bastion tu che vuoi fa no 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 vai 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 anche perché ecco ragazzi questo è un fattore interessante però se avete notato all'interno della squadra due giocatori possono anche avere lo stesso personaggio si e io era una cosa che citai nell'articolo sulla beta proprio perché era una cosa che consideravo ora vi chiedo pure a voi un po' sbilanciata secondo me perché perché se due per esempio giocatori prendono tom jorn che è quello lì che fa le torrette nelle considerate che le torrette col martello le potete fare aumentare di livello e diventano veramente delle macchine da guerra cioè praticamente sono un secondo personaggio allora la mia idea era quella di dire in una partita di difesa due prendono tom jorn sparano altre due torrette praticamente diventa un bastione inespugnabile quando hai detto inespugnabile mi sono emozionato beh è la prima parola complicata che mi è venuta in mente complicata inespugnabile era il gna ebbene qua gnagnegni e lascia sangue dal naso quando lo dice è vero robetta seria gob ma cago vuole farci una domanda un po' intima non lo so dipende a chi gob io già mi sento un po' a disagio per questa cosa ah stanno qui davanti spacco il culo cazzo vi spacco il cola le ultime parole famose si infatti ma c'è un healer pronto a healer io ci sono dove sei sono carico sono dietro al robotone si ho dimezzato già chi me cura ma è in cazzo ok stai qua stai qua stai qua mi dico healer si stai qui stai qui stai qui mi ha fatto ammazzare pinky vai sto dietro al robotone curo io no male 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 ok ok calmi 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 un attimo ok sto scimpanzee della minchia passa indietro passa indietro passa indietro cazzo lo stanno già portando qua si che è giù si che è giù la sofferta la sofferta so che raga quando si mette porca puttana no male 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 si fa la diretta da solo da vero incredibile cazzo manco bruno pizzul sicuramente mi sa che muoio io c'è che è andato andiamo è andato eh l'ha risuscitato però mannaia la puttana come ragazzi sopra si 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 è lì si sta curando il cane guarda lo vedo lo vedo lo vedo viene tiragli giù aia 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 ok ne abbiamo 200 qua fuori ne siamo consapevoli sono scappato dove sei andato mi hai lasciato da sola l'ho giocata un po' sporca eh infatti muoio muoio eh ma perché ci hanno ci hanno c'è isato lì dentro però mi piaceva questa cosa di team aia 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 maledetto se eravamo più di due arrivo eh arrivo ma come fa a essere questo scimpanzee eh perché è andato in rage eh ma si cazzi sembra donkey e in rage muore sto canaglia però prima ha ammazzato a me giustamente un'altra kill per lui allora gov c'è una domanda a tutti e cinque aia 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 avete ricevuto la beta perché siete raccomandati no gov lavoriamo per una testata videoludica e quindi ma non è per un cazzo diglielo siamo raccomandati esatto siamo un po' raccomandati però il preambolo doveva servire per polizia postale ah Luca te l'ho detto che è mio cugino che vive in giappone c'ha la playstation 7 ma non ce la può far vedere eh solo a pochi eletti che test cazzo cioè ragazzi l'abilità finale eroica diciamo dei ciappi qua è spettacolare è una bestia quella del soldato 76 è fica ma chi è la maga ciappi si che ammazzo l'healer si che ammazzo l'healer andiamo giù a fare un puttanaio vieni qua no c'è dietro lo scimpanse è vero eh infatti dov'è 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 preso sono giù preso piaciuto eh aia aia affanculo ho ripreso qualcuno per i capelli grazie ero io arrivo per i circuiti cazzo ma sono qui ah 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 due doppia 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 pazzesca per lui tieni tienimi tienimi aiuto falli passare grazie carissimo cavacca dove andata mi piaccio qua ditemi quando arrivano la misoginia vale? dipende sono personaggi femminili ah ah che botta buca ce l'hai davanti dicevo anche io a damaster con questa cosa mi sa se dicevi che ce l'avevi dietro eh non male poi ma Pinky c'hai l'angelo ragazzi c'è un tank in mezzo c'è un tank in mezzo non fa bene Pinky con il destro a me mi fai diventare una crivella occhio la pioggia dall'alto via di lì via di lì via di lì non ti preoccupare ci ho pensato io pizzo di merda capito Pinky? beh l'akili soldato 76 è una potenza della natura guarda sto in mezzo ai coglioni aspetta che c'è gente che muore così? si ti secco male cretino si 5 uccisioni di fila se tu la fai così grande Fabio ci stanno i danni aumentati capito? ok via 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 occhio c'è un casino di gente che sta arrivando un tank uno scimpanse mamma mia 6 kill di fila he's on fire guys perché Fabio? sta portando con i tank lì cazzo perché sono in gas simo oh quante ne assorbe di danni porca la vacca bisogna aia 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 eh ho un po' di assorbirne per tutta la vita non muori la 200 lì no no voglio io voglio io chi è che spara a me? ma se ne vai a dormire a destra qua dietro si arrivo arrivo io 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 prendo io prendo io si che te li prendi tutti i danni si che te li prendi tutti anche tu ragazzi stanno arrivando da giù col tank eh lo vedo lo vedo fanno passare fanno passare in modo che lo possa prendere di lato fatteli passare ok eccolo qua dai dai che sono ok ok preso dai 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 arrivo col soldato a 76 facendo un macello bravo fa sono carichissimo ma devi continuare con tutta la dose di commenti che ti fai eh se no non perdiamo la partita si 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 healer qua healer qua healer qua ce l'ha anche lui dove è? ah no ok ok eh no se no ce l'ho nel Q eh certo che se mi si mettono davanti così diventa complicato eh a destra eh l'ho visto eh gli ho distrutto healer ma adesso mi rompono il culo eh infatti gli ho eliminato healer ma mi ha distrutto lui cazzarola peccato a destra senti al ninja un secondo entro dai raga lo stiamo tenendo lì bene il carico eh dai non lo molliamo chi è che fugge dalle mie cure? capirai io sto fermo dai ragazzi che abbiamo vinto questa dai vai vai teniamo il team oh 14.5 è pazzesco tenete quello che avevate adesso grande fammi vedere un po' oh 14.7 e ho fatto anche 5 kill dell'obiettivo e ho fatto anche il l'high light l'high light ti è che robetta oh ammazza questo è il nuovo PG che mi faccio va ho fatto 16.8 oh per una volta l'abbiamo fatto eh meno male c'era Pinky che ci curava comunque teniamo teniamo sti ruoli raga ce la faccio così siamo meglio oh best kill streak oh aspetta io invece voto Luca non è vero mi sono votato da solo no esatto infatti sacrificato sul living e non cacato dal gioco che robetta raga eh lo sai com'è Luca ma comunque davvero mai fatto così tanti danni oh 7000 anche perchè l'angeletto non può sparare devi switchare le armi è rognoso infatti ma infatti quando ti lasciano solo è è brutta però vedete ragazzi abbiamo equilibrato un po' meno male va almeno i nostri spettatori vedono qualcosa di decente per un momento meno male oh io riprendo ciappi raga io vado ancora di soldato soldato poi è figo perchè se prendi le prime raffiche gli spari il missile ozzo è finita ma infatti guarda poi hai visto che figa la l'eroica quando aumenta tutto il radio cioè li sbraga proprio esatto dove ovunque spari colpisci spettacolare su altezza 1.80 no ma intendevo su altezza reale 1.78 porco due che roba brutta che cazzo fai figa no la moglie che mi stalkerà col telefonino ahia ragazzi comunque volevo infermarvi che oggi Jennifer Aniston compie 47 anni ed è molto più figa di 20 anni che conosco ma insomma praticamente sei gossip girl no ma appena avrei visto una foto se volete ve la mando vai vai manda manda 47 anni e la signora è veramente in fuoco oh che beffio mio tra soldi e tempo di far tutto quello che te pare bello cazzo guarda come si stanno a piazzacqua davanti sti infami vai vai che ci penso io sti maledetti sono carico cazzo li spacco in due però questi 17 secondi iniziali sono una palla totale non so mai cosa fa si è lunghina eh vero c'è che due balle oh salutiamo Jox ciao Jox ciao Jox ma Lucio che sembra Eddie di Tekken 3 no ti prego non dire così dai Eddie no eh minchia mister capoeira ah è morto così forte sto il tank ma che merda cos'è che c'ha cos'è quella torretta lì che c'ha in mezzo è un umano dunque io muoio adesso eh cecchino c'è l'arciere è su un bus eh ma lo stanno anche eh provo a prenderlo ma è tosta eh ma c'è anche l'healing raga cioè se lo lasciamo lì adesso provo a fare il giro a prenderlo porca vacca ha tirato il coso ha tirato si me lo sono preso sulla faccia sono dietro di te ho visto porca miseria non c'è una bomba qualcosa da tiraglia niente oh ma se potrà sali qua sopra no ragazzi mi state spoilerando Masterchef fermi tutti chi è? io vi prego oh doppia vi prego non me lo spoilerate ma lo senti? a un certo punto l'ho sentito ho sentito la voce inconfondibile di Bruno Barbieri ma dimmi te eh vai giù vai giù vai giù vai giù dio della merda wow 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 mannega ma ti lo faccio il culo eh porca vacca oh la madonna che è? cecchino raga è fortissimo io sto tenendo sul tank con il trasporto quindi se volete cure venite da sta parte ponteforte il tipo ciao riroccia buonanotte ciao roccia oh si ho letto un balletto ah niente siamo morti dai dai raga dai raga il carico è là davanti comunque va bene no raga il cecchino comunque è una roba illegale oh eh se lo sai usare è devastante eh ma poi si sta hilando di brutto però adesso se ne va a dormire insieme al suo healer del cazzo scusate mi faccio prendere a volte ah ma mazza no intrappolamento qui no eh eh ma c'è una torretta piazzata all'altra parte simu cazzo sto soldato porco tuta non riesco a buttarlo giù dov'è? eh so io che sto bloccato vabbè faccio outing va hanno un mega tank là eh aiaiaiaiaia si 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 non so chi è che l'ha fatto ma tienilo lì ti prego healer carissimo perché sennò sono finito porca vacca considera che sono entrato a go go ma mi hanno ucciso ma è sempre lui maledetto arciere eh ma guarda che l'arciere è forte eh ma è forte anche lui se calcoli bene solo che questa mappa da attaccante è una bella rottura di scatole perché hai visto a passare dall'alto come come freghi infatti c'è sta luca qui sopra più che altro che il fatto che arretra che ma tu cannassa mi serve e l'ho capito me contro ma come un sacco? no qua non va bene ma perché siete tutti qui? eh non va bene infatti dobbiamo levarci della minchia guarda luca come mi piace no torretta maledetta vai 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 grande lucchino e il cecchino è andato ammazza comunque oh ma il cavolo d'attacco che c'ha perché sono 110 kg di cristiano e allora vediamo un attaccante serio ma perché non buttava più lealing uno che può fare un po di danni occhio dietro vediamo se riesco a fa qualcosa con la cecchina ocio ocio no non è veramente troppo non c'è cosa fa il trago acca troia sono appena entrato il drago ma già raga il carico stando è lontanissimo aia 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 morti occhio stiamo prendendo il carico raga cecchino penso penso abbia fatto 300 kg e vabbè però preso il cecchino raga il cecchino giù c'è rimasto solo il tipelli wow 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 mannega sì 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 tiro giù anche il coso cos'è il coso beh ah cazzo sarà curato di brutto o distrutto il eh cazzo dai scusate eh sì 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 portiamo il carico portiamo il carico siamo dentro raga siamo dentro dai 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 io mi devo curare raga aspettate un attimo c'è un tank loro c'è un tank loro ehm no ehm troppi danni non riesco a ehm ne fa veramente una cosa che c'ha avuto ok ehm ok gli ho tolto leader ho cercato di togliere gli leader anche loro l'ho fatto ecco forse una rotta ah no aspetta hanno cambiato il checkpoint perfetto eh si vabbè che stava ti dico cazzarola mo me devo rifare tutta la strada dai 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 raga dai 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 che ci siamo eh ce la possiamo fare luca aiuto aia dietro dietro luca ok vai ragazzi ve li rivelo grazie eh no guarda quel cazzo di coso ma anche perchè se l'ho preso vaffanculo l'ho preso le torrette sono la cosa che più odio guarda ma quella di tontro portiamo in dato portiamo avanti portiamo avanti il coso il eh niente mi ha preso lui però eh stavolta ho peccato io di presunzione healer se riesci dove sei? posto 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 ci siamo ah 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 occhio drago eh ma l'ha sprecato così aspetta che provo a cioccarlo io dai mi vuole mano ferma quando ti tira giù il cecchino a caso però un po' attana e va che palle c'è uno sopra di noi da non riesco si non riuscivo a prendere quel cavolo di coso vediamo se metto pure io anzo va si gli sto seccando healer ok perfetto occhio lì minchia oh sto sto cecchino adesso provo a prenderlo anche io per curiosità sono curioso guarda che mannaggia ti prendo ti prendo ti prendo no aia che figo il cecchino prima freccia prima morto grande luca grazie ma che figata l'arciere oh ma scherzi ti ho detto dobbiamo uscire da sto buco luca eh lo so però sto cercando anche aspetta questo l'ho preso ma cazzo siamo lì siamo lì siamo lì ragazzi siamo lì eh cerchiamo di stare lì che è tempo con te cioè è tempo con te eh va te ne m'ha preso porca vacca ahia stava la freccia sul danno abbiamo preso il checkpoint in più o sbaglio mi pare di sì perché abbiamo aperto la porta eh quindi abbiamo aumentato il tempo cazzo sono messo male qua ho sempre il cecchino sempre sempre sì e anche perché poi si piazza in alto eh porca miseria eh però non mi hai dato neanche eh ecco mi sono fidato mi sento responsabile Luca scusa per i capelli eh era il tank mi ha buttato giù pure a me giù un cratta se poi danni abbiamo lo stronzone va così si sbrigano 20 secondi grazie 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 madonna le torrette io non le sopporto cioè mi dispiace guarda però in un gioco del genere le torrette sono una bestialità no perso eh vabbè ragazzi mi sa che io vado eh a me sa che andiamo tutti eh diretti sì anche perché se no poi il team ce lo perdiamo così sì vabbè ma smettila di fare il figo eh beh questa era forte buono questa era forte e allora ragazzi io direi a questo punto visto che tanto abbiamo fatto vedere bene o male tutte le meccaniche del gioco tra l'altro Luca che si si riconferma votiamolo perché se no mi sa che nella tisana la moglie gli ha messo tipo non vabbè non lo dico dai stavo per una brutta cosa allora facciamo vedere il mio level up benissimo 21-12 comunque bravo Luca bravo allora ragazzi io torno alla schermata del poster poca gloria per gli leader e beh come sempre e ragazzi allora io rinnovo come sempre l'invito a venirci a seguire sul sito che è www.gamesurf.it ovviamente troverete anche repliche live nuovi live programmazioni di tutto un po' compresi anche news speciali e recensioni videoludiche di cinema tra l'altro Luca ho visto oggi che è stato lanciato Oscar Gamesurf ho visto male? si un mini sito interamente dedicato agli Oscar e in più anche un altro mini sito dove potete votare i vostri preferiti per la nota degli Oscar quindi se volete potete anche dare la vittoria al buon Leo perfetto Leo quindi ragazzi un motivo in più per venirci a trovare ovviamente e anche soprattutto per venirci a dire la vostra quindi mi raccomando oltre che a seguirci sul canale Twitch veniteci anche a commentare tra l'altro vedo che Diego sta in poll per darci un assist sul link del sito grazie Diego e ovviamente buonanotte a tutti grazie a tutti da averci seguito e ci vediamo sicuramente domani con un'altra diretta dedicata ah Simo 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 ecco la prima volta che riesco a fare la liscia la chiusura dimmi Fabio dimmi tutto Simo 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 mi saluti? ciao Fabio salutiamo la Brianza con tanto affetto il bianzotto e ciao ancora ragazzi il bianzotto il bianzotto appunto ciao ragazzi vi levo tutti ciao 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 ciao